La sua fama ha varcato il confine con la Turchia dopo la serie TV e Arlicicus, in cui il famoso attore Kanyaman ha recitato con Demeo con D'Eresi Bemir, e successivamente nella serie MR. Raggiungendo una vasta base di fan in Italia e parlando italiano come sua lingua madre, il bell'attore Kanyaman ha preso parte a molti progetti. Il famoso attore sta ora facendo le prove per la serie El Turco, che sarà girata a Budapest per Disney+. Il nuovo progetto del bell'attore ha già entusiasmato i suoi fan. L'affascinante attore Kanyaman, che si è fatto un nome con i suoi progetti di ruolo, ha annunciato il suo nome all'estero con la serie Arlicicus. Raggiungendo in breve tempo una vasta base di fan in Italia, Kanyaman si è fatto un nome partecipando a serie TV e spot pubblicitari. Nuova gloria del progetto da Kanyaman. Secondo le notizie, la serie TV viola come il mare con protagonista Kanyaman ha attirato grande attenzione e ha fatto sorridere le persone negli ascolti. Kiyaman sta attualmente provando la serie El Turco, che sarà girata a Budapest per Disney+. Il set della serie, che sarà girata in inglese, inizia questa settimana. Kiyaman trascorre tutto il giorno ad allenarsi.